Oggi è architetto Tuccio, stretto di mano con l'assessore Catania, e dopo di che caffè? Senz'altro, ci mancherebbe, non siamo per fare né l'iti né cose, lavoriamo tutti con difficoltà, immagino che possa essere questo qua uno dei motivi di questa, diciamo, diverbia, perché anche se in ruoli diversi, penso che tutti in modo diverso subiamo un po' di disordine organizzativo al quale penso bisogna porre il rimedio, cioè questo è uno dei motivi sicuramente. Il tentativo mio è quello di cercare di dare linearità all'attività del mio settore, diciamo, e delle competenze che ho. Probabilmente queste magari vanno un po' spiegate, magari possono determinare qualche incomprensione. Sui modi, ognuno ha i suoi modi, di conseguenza, ma non voglio parlare del passato, voglio parlare del futuro, per cui penso che la cosa più utile sia che ci sia questa disponibilità al chiarimento e che c'è stato probabilmente un equivoco in modi magari inappropriati, però penso che anche in ruoli diversi non possiamo che lavorare per cercare di risolvere le cose. Tra l'altro ne ho parlato pure col sindaco, oltre che con Eugenio Catania, che tra l'altro c'è una persona che conosco. Finora abbiamo avuto rapporti molto buoni, personali, anche di famiglia, che la cosa mi ha sorpreso alquanti, diciamo, questa alterazione. Probabilmente, non so, l'ha spiegato già Ludico, non voglio entrare nel merito delle sue spiegazioni, posso parlare di me. Cerchiamo di lavorare per fare le cose buone. Anche da parte mia c'è stata un'alterazione, non un'alterazione da parte mia, ho subito un'alterazione che ritengo di aver subito. Ci siamo chiariti che probabilmente è stato frutto, nel senso che ognuno ha i suoi modi, i comportamenti, il mio carattere e ognuno ha i suoi, per cui magari le stesse cose le viviamo in maniera diversa. Ora, non voglio entrare nel merito di queste cose. Penso che la cosa più utile per noi, anche per il lavoro che facciamo, è di avere chiarito che si tratta di modi forse interpretati male. Speriamo, no speriamo, sono sicuro che non si potranno ripetere, anche aiutati da un'organizzazione, dall'amministrazione, alla quale stiamo cercando di lavorare per garantire l'efficienza che ancora non abbiamo raggiunto.